L'ingegnere Sebastiano Russotti, l'imprenditore che ha realizzato l'Ortea Palace, un albergo di lusso in fase di completamento al posto dello storico Palazzo delle Poste, apre in esclusiva le porte dei saloni centrali, ormai ultimati, per le telecamere di Tele1 Tris. Dai nostri microfoni lancio un messaggio forte ai siracusani e al comune affinché Ortigia possa diventare un importante centro turistico del Mediterraneo. Noi abbiamo costruito questo albergo perché crediamo che Ortigia abbia tutte le caratteristiche per diventare un grosso centro turistico nel Mediterraneo. Che cosa serve perché diventi un grande centro turistico nel Mediterraneo? Dobbiamo utilizzare tanti palazzi che sono chiusi e non sono in condizioni tecniche atte a resistere ancora per due o tre anni. Ora speriamo che il comune e tutti i siracusani cerchino di fare qualcosa. Noi vorremmo fare qualcosa ancora, però con garanzie diverse, perché è il primo caso che ci succede che per fare un albergo impieghiamo otto anni e un mese. Ecco.